Buongiorno, sono Tiziano Almani, European Business Development Director di Via Technology, principalmente orientato al mondo embedded e alla mia divisione via embedded. Ci occupiamo di applicazioni embedded da molti anni, abbiamo un portfoglio prodotti molto ampio che comprende la componentistica embedded, tecnologia X86 e ARM allo sviluppo di schede in formato mini, nano ITX e pico ITX ed embedded ITX e una serie di embedded system rugged per applicazioni industriali. Il tutto è 100% sotto il controllo della nostra tecnologia, quindi abbiamo tutto in house e stiamo andando sempre di più sulla focalizzazione e sulla customizzazione del prodotto dal punto di vista hardware e dal punto di vista software. Siamo oggi l'unica azienda sul mercato in grado di offrire customizzazioni di alto livello dal punto di vista del prodotto, principalmente dal punto di vista software. Ripresentiamo tutta la nuova gamma di prodotti, per quanto riguarda la nuova gamma di prodotti a livello silicon e CPU abbiamo tutti i processori di nuova generazione dual e quad core che sono stati integrati nelle nostre mainboard e nei nostri sistemi embedded di ultima generazione con una peculiarità unica sul mercato. La nostra generazione è denominata nano CPU, è una CPU con scalabilità da single, la dual, la quad core con diversi clock intermedi che ha la caratteristica principale di essere un pin to pin. Per il pin to pin intendiamo dire che possiamo effettuare dei design avendo e mantenendo la scalabilità di performance non solo cambiando il clock della CPU ma cambiando il clock della CPU. Questo ci prese di una posizione unica rispetto a tutti gli altri livelli del S&P. Vorremmo nella seconda metà di quest'anno grande focus su quello che è il mondo ARM. All'interno del gruppo abbiamo un'azienda che si occupa solo ed esclusivamente di CPU ARM, si chiama Mondermedia, è un'azienda del gruppo che oggi è assolutamente orientata al mercato consumer, quindi non idonea alle nostre applicazioni in bed. Stiamo sviluppando con loro una serie di relazioni per poter avere le caratteristiche principali e le richieste dal nostro servizio di mercato, quindi longevità di prodotto, stabilità dei driver e assistenza tecnica. Con questo agreement sulla nostra sister company andremo a sviluppare una serie di soluzioni a livello di single board computer, di embedded system orientati alle applicazioni professionali con CPU ARM sotto diversi sistemi operativi, dal mondo Linux, dal mondo Android, dal mondo Microsoft embedded. Come ultima novità, a partire dall'anno scorso, per la prima volta via, che è un'azienda che ha sempre lanciato dei formati proprietari dal punto di vista delle soluzioni delle single board computer, non tutti sanno che siamo gli inventori dei formati mini, nano e picco ITX, oggi è assolutamente standard di mercato. Dall'anno scorso abbiamo deciso di iniziare ad aderire a qualcosa già esistente di standard, quindi abbiamo soluzioni come Express, in formato Type 2, Type 6 e Type 10 e formati Q7. Oggi il portfoglio comprende soluzioni single, dual e a breve quad core e nella seconda metà di quest'anno avremo soluzioni basate su ARM CPD.